Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, niente, noi siamo sempre qui a parlare di blu, 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 blu. Nel senso che, non so se già ve l'ho fatto vedere in qualche haul, però, di nuovo colpo di tosse. E vai, non ci poteva mancare, eh? E vai, dice segretaria, vabbè. Ho qui una cosina che avevo preso un po' di tempo fa, ma credo già che ve l'ho fatta vedere, ma non sono convintissima. Quindi ve la rimostro. Mi dai poi il telefono? Ve la rimostro perché ho trovato questa chicca, è un ritirato, molto carino. E io volevo appunto abbinarlo al bracciale stelle, vi ricordate? Però mi è sorto un dubbio, perché lì parla di mare, di acqua. Quindi ve la faccio prima di tutto vedere, così ce la guardiamo insieme e poi cerchiamo di capire dove posso inserirla. Io ho tirato fuori un pochino di bracciali che ho con il blu in qualche modo ricorrente. Anche questo, per esempio, ha il rose e il blu, secondo me ci potrebbe andar bene anche qui. Ho poi le stecche che potrebbero riprendere un pochino. Ho qualche cosina anche qui dentro, vediamo. Ma è che l'ho alzato? No. Insomma, di cosine ce ne sono. C'è anche questo che però, che balliamo sempre, che però dovrebbe essere quantomeno, secondo me, completo. Forse sì. Però magari sai, nei cambiamenti, questo con la collana, vi ricordate, no? Bellissima. Quella l'ultima, diciamo, uscita. E vediamo un attimino dove e come può andare il tipo. Questo qui che ho preso. Ve lo faccio subito vedere. Anzi, prima vi faccio vedere come spesso accade sul telefonino. Segretaria, grazie. Ecco, il telefonino di segretaria oggi, perché il mio è sotto carica. Eccolo qui. Questo è il bid preso. Praticamente è il bolle blu traslucido. È un ritirato molto grazioso. Eccolo qua. Vabbè, mi ho fatto vedere. Vedete com'è? Ha una vena molto, appunto, luminosa, quasi violacea. Ma adesso la vediamo meglio. Vi voglio far vedere una cosa. Ecco, queste le bolle... Ecco perché ho avuto un attimo un dubbio. Perché nella descrizione c'è scritto Le bolle blu di questo Trollbiz ricordano la trasparenza dell'oceano. Quindi parliamo di acqua. E le sue acque cristalline. La serenità che ci sa regalare. Scusate, ma sono anche... Continuo a essere ciecata. Ecco. Questo è molto bello. Certo, vederlo così e vederlo dal vivo non c'è niente a che fare. E adesso vi spiego perché. Grazie segretaria del contributo. Sempre molto gentile e preparata. Eccolo qui. Luce. Luce. Luce pura. Bellissimo. Bellissimo. Però non ve lo voglio far vedere qua. Perché secondo me non rende sul nero. No, non rende. Lo tolgo dal cuscinetto trolloso. E lo inserisco nella bacchetta di metallo. Vediamo se così riesco a farvelo vedere meglio. Forse. Sempre che questa telecamera mi aiuti. Ecco, forse se faccio così faccio anche prima. Allora, che cosa notiamo? Notiamo sicuramente la luminosità. Notiamo che la colorazione è sul bluet violaceo. Cioè molto, molto luminosa ma anche ben delineato anche nella colorazione delle bolle. Adesso lo vediamo meglio nel dettaglio. E io ve lo sto facendo vedere così sulla bacchetta tanto per farvi capire. Ora, lo vediamo un pochino meglio. Qui prende tutto il sotto. Giustamente. Ecco qua. Questo è nel dettaglio. Vedete? Molto, molto particolare. Eh sì. Ha il vetro che è di questo blu. Non scurissimo. Ecco. Poi la parte centrale, quella sul rivetto, ha la parte traslucida che poi noi vediamo. E dove sono le bolle c'è questo cono violaceo. Vedete? Che tende al violaceo. Molto bello. Questo mi piace tantissimo. Ora, il problema è come lo posizioniamo. Perché io l'ho presi per poterlo inserire in questo bracciale qui. Che è il bracciale delle stelle. Che sto componendo, lo sapete, no? Ora, voglio provare insieme a voi a vedere come ci potrebbe stare. Intanto questa è la parte sbagliata. Ecco. Non ci pio mai. Ok. Devo inserire lui e poi ne ho un altro da inserire come voi sapete già, che vi ho fatto già vedere. E ve lo faccio vedere anche subito perché altrimenti non ci capiamo. Aspettate che accorcio. Ecco. L'altro era questo qui. Quello del set da 35. Che è bellissimo. Cioè, guardate. Aspettacolo. Mamma mia. Ecco. E poi ovviamente ci mettiamo anche le stelle. Che facciamo? Non ce le mettiamo ste stelle? Aspettate che mettiamo anche le stelle cadenti. Già vi ho fatto un video a riguardo. Ma sì, alterniamoli che forse alternate risaltano anche un pochino meglio. E adesso lo chiudiamo e cerchiamo di capire un po' se può andare su questo bracciale. Se invece secondo me e secondo anche voi può andare su altri bracciali. Ci ragioniamo un pochino meglio. Aspettate. Allora, partiamo con il fatto che questo è il bracciale stelle. Però poi abbiamo quello così. Che anch'esso meriterebbe insomma qualcosina di diverso di nuovo, no? Poi abbiamo questo, vabbè, l'abbiamo già visto. Però è più sull'azzurro. Ok. Abbiamo lui. Che ci piace tantissimo. Almeno a me. Io parlo sempre al più rurale. Credo anche a segretaria. Questo mi piace veramente, veramente tanto. E forse questo potrebbe essere completo anche così, in teoria. Poi abbiamo lui. Che è quello che mi ha creato la mia segretaria. A me piace da matti. Poi abbiamo un tema. Questo che cos'era? Marino? Sì. Ecco. Dove forse quello lì ci può star bene. Perché ha delle colorazioni sia bluette, come potete vedere, che bronzate, leggermente dorate. Insomma. Comunque questo è l'altro. Per ultimo, forse. Non so, non ricordo se è l'ultimo. Ah, poi abbiamo lui. Scusate. Che vi ho già fatto vedere. Che praticamente... Questa è un po' una cozzaglia, no? Ve l'ho fatta vedere già così. Però io sto cercando di montare questo tipo di rosa con questo tipo di blu. Come potete vedere, sono riuscita a trovare qualche cosina, tipo lui, lui, questo va bene, questo va bene. Forse questo no, questo neanche. Però insomma, diciamo che sto cercando di trovare questo tipo di pezzi da poter abbinarci. Quindi, poi abbiamo quest'altro, che però è già più o meno completo. Anch'esso è un tema, questo è un tema oceano proprio. Sì, infatti vedete, ha le meduse, le balene, il vetro con le meduse, questo qui, i pesciolini, fighissimi. Mi piacciono da morire. Insomma, diciamo che il veliero, questa no, no, che cos'è? Questo non vedo più io. Ah no, questo è il... Il pinguino? Sì. Il pinguino mamma e figlio, mi sembra, sì. Ma la medusa l'ho fatta vedere. Poi che altro argento c'è? Ah, i delfini? No, le mele... Le balene piccole. Questo che è? Boh. Ah, questi sono i delfini? Sì? O le foche? Boh. E poi c'è l'altro... Questi sono i pennipedi, le foche. Sì, questo è l'ultimo argento che è lo stop con delfini. Non dell'ultima collezione, ma... È uno stop? Boh, sì, credo. No, forse no, non è uno stop. Adesso hanno fatto lo stop. Questo è un semplice argento, però questa che sta messo proprio male qua. Qualcosa devo togliere da qui, eh? Qualcosina devo togliere. Vediamo un po' cosa. E comunque poi abbiamo anche la collana. È tutta impicciata oramai. Che ho fatto, appunto, con... Ma perché balliamo in questo modo? Ecco. Segretaria, certo che se lei mi desse una mano... Eccomi. Eh. Qui abbiamo un problema con gli impicci della collana. Eccola qui. Ho fatto, ho fatto. Eccola qui. Questa è la collana. Vedete, c'ha questo blu molto bello. In teoria, da quando l'ho composta è rimasta così. È rimasta così. E finora sembra aver funzionato così. Però vediamo. Mai dire mai. Mai dire mai. Abbiamo un'altra collana che può... Che solitamente metto con il bracciale, quello con le ceramiche, no? Che è questa qui. E come vedete ha dei bluet molto accesi anche lei. Un po' di altro bluet che qua non mi ricordo niente. No, vabbè, c'è questo che però non è... Eh, questo è un prisma. C'entra nulla. Abbiamo il gattino. I gattini ci abbiamo. Eccoli qui. Con il bluet. Sì, più o meno. E che altro c'è? La palma. Però è un blu la palma. Abbiamo questo qui. Di nuovo questo. Poi questo. Questa è la farfalla, sì. La palma, ok. Vabbè, diciamo che su queste colorazioni un po' ci si può sbizzarrire. Di qua sulle stecche... Io ho preso due che mi sembravano adatte, poi non so. Sulle stecche, come vedete, di blu bluet ce n'è qualcuno. Quindi possiamo in qualche modo... Bella questa. Guardate che spettacolo. Possiamo in qualche modo, diciamo, giustrarci un pochino. Guardate quanto è bella. Non mi ha spettacolo. Ecco, quindi. Che vi devo dire? Per quanto riguarda il bracciale stelle, vedendo come sono inseriti questi due, non mi dispiace affatto. Anche perché anche lui è traslucido rispetto a questo qua, eh. Dov'è? Rispetto a lui. Vedete? Ve l'ho già fatto vedere in precedenza. Più piccolino, più traslucido. Molto, molto carino. Mi piace perché comunque fa risaltare un po' le stelline. Anche qui abbiamo delle stelline molto graziose. Questo è molto bello pure. E questo potrebbe riprendere, vedete, questa colorazione. Avvicino un po' perché sennò... Facciamo un po' di spazio. Sennò qua con tutti questi affarini. Eccolo qua. Ora, come posso ragionare su questo bracciale? Così composto... Ecco, lo faccio vedere. Così composto... Personalmente non dispiace, eh. Proprio detta denti stretti. A me così composto non mi dispiace affatto. Aspettate che... Amargo un po' perché altrimenti... Ecco. Molto, molto bello. In questa maniera. Poi, sicuramente... Qui abbiamo un altro pendente per caso. Perché io ricordo che di questa avevo anche un altro pendente da dover mettere qui. Quindi ancora va finito. Ancora va finito. Però come colorazioni... Ci siamo. Cosa ne dite? Magari questo qui lo spostiamo qua e questo lo mettiamo qui che dà un po' di saturazione in più al bracciale. Altrimenti qua si perde un pochino. O forse il bello è anche proprio questo. E anche proprio questo, insomma. A me piace tantissimo. Ve lo dico ancora una volta. Lo so che l'ho ripetuto cento volte. Però mi piace veramente, veramente tanto. Ma guardate queste stelle sono stupende. Non so. Datemi voi un consiglio. Perché io a volte... Mi piacerebbe metterlo magari su un tema marino come vi ho fatto vedere anche lui, no? E non ci sta male, vedete? Come colorazione non ci sta affatto male. Però non so perché lo trovo un po' più completo qui, un pochino più completo qui, in questo bracciale. Lo so che spesso cerco la vostra approvazione, in questo senso. Però tante volte magari io credo di fare delle cose belle e poi non le indosso perché alla fin fine non mi catturano più di tanto. Invece magari anche grazie a voi riesco in qualche modo, e questo è appurato già, in qualche modo a farlo un pochino risaltare. Ecco, magari spesso mi dite metti questo lì, questo là. Io vi leggo sempre. Ricasca la scatolina? Ah no, ecco. Io vi leggo sempre, sempre, sempre. A volte rispondo con un pochino di ritardo, ma per motivi logistici, non per altro. Mi dispiace, in privato rispondo sempre meno perché... Per un discorso proprio di quantità. Nel senso che siete tante. Siete tante e tanti che mi scrivete, ma... Sotto i commenti diciamo che un po' timidi, vi vedo un po' timidi, ma ci sta perché io faccio la stessa cosa. Guardo i video e poi scrivo in privato, quindi ci sta tutta. Però quello che ho notato è che vi sbizzarrite proprio perché in privato si possono mandare foto delle composizioni vostre. E invece magari sotto i commenti si commenta giusto il video e via. Poi dopo l'amicizia, perché a questo punto diventa anche un'amicizia virtuale che io ho sperimentato, l'amicizia in qualche modo risalta anche in privato di più. Vi volevo dire che volevo inserirci anche il pendente quello di Gaetano, quello c'è lo stellato. Però non sono convinta perché già ho un altro bracciale, ve l'ho fatto vedere prima, con questo pendente qui. Però ragazzi ci starebbe proprio bene, ma ci sta proprio bene qua. Cioè al bordo, no al bordo, come si chiama, alla chiusura, vediamo un po'. E' proprio bello. Più che altro ci si dice tanto, ci si addice proprio. Vediamo, eh. Io tolgo, metto il pendente, dove vai, dove mi scappi, rimetto il bracciale. E verrebbe così. Forse è più completo ancora. Che ne pensate? Ecco, vedi, in che ne pensate? Io vi chiedo la vostra opinione perché è fondamentale per me sapere che è successo qua, si è incastrato, ecco. Ah, no, questo si è incastrato male, aspettate, va. Ho fatto, ho fatto casino. Dicevo, è fondamentale per me sapere così da poter creare veramente quello che potrebbe essere la miglior composizione. Ecco, dai, così ci siamo. Si vede un po' tutta? Io credo di sì. Che belle se stelle, ragazzi. Mamma mia. Cioè, spettacolari. Mi piace tantissimo. Questo è uno dei bracciali meglio riusciti per me. Poi, come va detto, tutto dire. Io vi saluto. Vi do appuntamento al prossimo video che sarà, o non so se è Pandora o Trollbeats, dipende quale carico per primo. e vi devo far vedere anche altre composizioni perché sono riuscita a prendere il tempo fa i... Aspetta, questi. Questi qui. E voglio fare una composizione, se riesco, sempre se riesco, con le tonalità, è un po' invernale, ma con le tonalità del nero, del dorato. Vedete? Queste qui sono molto belle. E secondo me con qualcosina, anche con questo starebbero bene, mamma mia. Anche con questo bracciale. Ci starebbero proprio bene. No, datemi straconsigli, vi prego. Vi prego, ho bisogno, perché altrimenti qui veramente non so più dove poter posizionare cosa. Io vi ringrazio, mettete un like di supporto se ancora non l'avete fatto e se vi è piaciuto ovviamente il video. E ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, a presto.